Prima cosa che andremo a fare quindi sarà gestire il routing affinché possa avvenire la comunicazione end to end. Decidiamo di utilizzare il RIP, quindi possiamo operare qui direttamente dal config oppure andare direttamente dalla riga di comando. Decidiamo di andare da riga di comando, quindi ci troviamo in una situazione di questo tipo, scriviamo a questo punto CONF T, Configuration Terminal, Configure Terminal e andiamo a fare Router RIP e qui possiamo andare a definire le network che sono adiacenti al nostro router, quindi la 192.168.1.0 e la network 8.0.0.0. possiamo andare a vedere tramite lo show run direttamente l'informazione relativa al router RIP. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte per il router R2, quindi scriviamo enable configure terminal router RIP e qui facciamo network 192.168.2.0 e network 8.0.0.0. Ok, quindi anche in questo caso abbiamo configurato il router RIP. Proviamo a vedere se la comunicazione ad essa avviene ed è già successful, quindi le rotte si sono già propagate e quindi abbiamo direttamente che la comunicazione, il ping end to end sta avvenendo. Quindi se qui facciamo adesso un show IP root, possiamo vedere appunto le varie rotte settate correttamente e qui abbiamo direttamente quella che è stata la rotta tramite il RIP che è stata configurata in questo momento.